questi momenti in cui state con voi stessi praticateli ogni giorno osservando il respiro qui ora la mente diventa calma diventa simile a un lago a uno specchio riflette ma non si attacca a nessun pensiero osservando il respiro semplicemente sedendo senza scopo in questo istante se potessimo avere un breve istante di consapevolezza respiriamo perché siamo vivi adesso se potessimo avere un breve istante di consapevolezza sarebbe già un grande tesoro e possiamo farlo è che potrebbe renderci membri migliori della società come diceva c'è un grazie